Un incendio divampato in un alloggio situato al terzo piano di via Lombriasco 22 nella mattinata di giovedì 3 ottobre intorno a mezzogiorno. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Per sicurezza è stata temporaneamente evacuata la palazzina. I vigili del fuoco hanno domato e spento l'incendio. Fortunatamente quando è divampato in casa non c'era nessuno. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.